L'edema degli arti inferiori è una patologia in aumento i cui costi sociali e sanitari sono elevati spesso per inappropriatezza degli esami e per mancanza di un preciso protocollo di riferimento. Per questa ragione questo sabato 29 ottobre presso la sala convegni dell'ospedale di Esine ci sarà un incontro riservato ai medici di medicina generale sul tema edema vascolare degli arti inferiori, inquadramento clinico diagnostico ed indicazioni terapeutiche. Si tratta di una patologia molto diffusa che interessa molte persone tanto è vero che al congresso erano previsti 100 posti che sono andati tutti occupati. È rivolto ai medici di medicina generale e ai medici ospedalieri, ai fisiatri, ai fisioterapisti e agli infermieri. Verranno coinvolti a parlare tutti i medici che all'interno della nostra azienda si occupano di questa patologia, quindi chirurghi, fisioterapisti, fisiatri e la dottoressa Volpi che è una specialista della coagulazione e quindi l'argomento verrà affrontato a 360 gradi. Il convegno intende anche fare il punto della situazione attuale nel territorio della SST Val Camonica e trarre alcune indicazioni utili nella pratica clinica quotidiana. L'obiettivo è di fare il punto sulla situazione, soprattutto sulla situazione in Val Camonica riguardo a questa patologia che comporta un grande dispendio di energie. Questo è un campo in cui molte volte vengono fatti esami inutili e altre volte non vengono fatti esami quando andrebbero fatti. Rendendo chiari i percorsi diagnostici, terapeutici, si snellisce la procedura, si facilita l'accesso allo specialista per i medici di medicina generale e quindi per i pazienti. Relatori sul tema dell'edima degli arti inferiori sono gli specialisti che operano nella SST Val Camonica, i medici Marco Andreoli, Bruno Compagnoni, Fabio Aviotti, Roberta Volpi, Marina Lomonico e la fisioterapista Elena Berta. L'inizio è alle 8.30 con l'accreditamento dei partecipanti.